Ieri pomeriggio il Papa si è recato ad Ariccia, nei pressi di Roma, per seguire con la cura romana gli esercizi spirituali predicati dal sacerdote Angelo De Donatis, parroco di San Marco Evangelista, al Campidoglio, a Roma. Papa Francesco è arrivato alla residenza dei Paolini, casa di Vimmaestro, poco prima delle 17, in Pullman, insieme ad una ottantina di persone. Gli esercizi, che hanno per tema la purificazione del cuore, sono iniziati già ieri sera alle 18 con la recita dei Vespri, seguiti da una meditazione e dall'adorazione eucaristica. Lo schema delle giornate prevede la concelebrazione eucaristica alle 7.30, due meditazioni alle 9.30 e alle 16, i Vespri e adorazione eucaristica alle 18.00. Gli esercizi si concludono a venerdì 14 marzo, in mattinata alle 10.30, la partenza ad Ariccia e rientro in Vaticano. In questa settimana di esercizi spirituali sono sospese tutte le udienze, compresa quella generale di mercoledì prossimo. Grazie a tutti.